direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi sabato 29 aprile il jackpot ha raggiunto la cifra di 23 milioni 466 mila 823 euro le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via l'estrazione del concorso numero 51 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero ed il primo numero estratto è il numero 43 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 73 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 56 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 21 e adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 89 e è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la cestina vincente ed il sesto numero estratto è il numero 55 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della cestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 13 controlliamo insieme la cestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 43 73 56 21 89 55 numero jolly 13 ed ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre si perché superstar moltiplica le vincite super ennalotto fino a 100 volte e preme anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti il numero superstar estratto questa sera è il numero 2 ricontrolliamo insieme tutti i numeri estratti del concorso numero 51 con l'ansestina vincente in ordine crescente 21 43 55 56 73 89 numero jolly 13 numero superstar 2 l'estrazione di oggi sabato 29 aprile termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 23 milioni 400 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 51 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del super ennalotto assegna 494 mila 369 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 23 milioni 400 mila euro sarà stato centrato il 6? questa serie del 6 di super ennalotto non è stato realizzato il jackpot cresce ancora per arrivare a 24 milioni 300 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 e nessun 5 più 1 all'unico 5 vanno 260 mila 764 euro i 4 sono 602 e vincono 668 euro ciascuno i 3 sono 25 mila 864 e vincono 36 euro ciascuno e i 2 sono 416 mila 3 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 296 mila 289 vincite immediate winbox scopriamo adesso insieme vincite premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 4 e vincono 66 mila 828 euro ciascuno i 3 stella sono 118 e vincono 3619 euro ciascuno 100 euro vanno ai 2 mila 4 due stella 10 euro ai 14 mila 473 uno stella e 5 euro ai 35 mila 300 zero stella inoltre 151 vincite da 50 euro ciascuna e 22 mila 725 vincite da 3 euro ciascuna sono assegnate alle combinazioni non vincenti vi ricordo che è possibile verificare l'esito delle proprie giocate in modo facile e veloce anche con l'app super ennalotto l'app è disponibile per tutti i dispositivi ma per maggiori informazioni consultate il sito super ennalotto.it vi ringrazio per essere stati con noi super ennalotto vi dà appuntamento a martedì 2 maggio giocheremo per un jackpot di 24 milioni 300 mila euro arrivederci grazie a tutti grazie a tutti